yuk 43 16 ciao a tutti ragazzi sono yuk e sono in compagnia di icethorne akimbo nanots nabazzo e sol ceman altra partita di lol questi sono i pochi pg che io ho quelli la con il punto esclamativo sono quelli free che cambiano ogni settimana e oggi giocherò con shaivana un pg nuovo appena acquistato grazie a voi lo sono ammetto perchè se cliccate sul link in descrizione come si dice mi è arrivato al quinto livello o al decimo livello del vostro account a me arrivano dei punti che posso comprare pg o addirittura skin eccetera così posso mostrarvele nei video visto che il video scorso è veramente piaciuto da yuk e tutto ciao a tutti no scherzo ragazzi stoppo il video e ci vediamo all'inizio della partita perchè mo c'è il caricamentolo eccetera ecco c'è chi ecco c'è chi ragazzi questa è la schermata iniziale quando c'è l'avvio del caricamento come vedete shaivana lo uso io garen lo usa nabazzo darius lo usa kimbo c'è qualcuno che fa eco a icethorne rengar lo usa solshevan e icethorne usa gianna abbiamo contro misfortune timo erzel zira e kaitlin cinque forti a posto io ragazzi c'è timo che sta caricando come un pomodoro per cui ora che carica passano tre quarti d'ora stoppo il video e ci vediamo in partita da yuk e tutto ciao a tutti eh chi c'è chi ragazzi eh chi c'è chi eh chi c'è chi allora sblocchiamo subito la prima compriamo questo chi allora subito questo poi ci prepariamo già le scarpet movement prendiamo le berserker ragazzi ma voi ci siete o parlo da solo? io ragazzi spero di non laggare perchè sto registrando con due programmi allora sapete come da altro video che all'inizio è tutto moscico e poi si riprende il gioco con l'andare del tempo io però sto laggando ragazzi no io sto registrando sia con fraps che con fantasia voglio vedere chi me lo fa più piccolo il video ragazzi parlate che siete moshi cavolo dobbiamo vincere con questo umorismo si ragazzi perchè hanno visto zirral lì come cavolo si chiama lui timo e ci hanno paura di miss fort oh mano dietro io li attacco oh li attacca guardate ragazzi è moruto come akimbo ma si ragazzi mutate il cane rispezzate le jumper fuori la prima morte di akimbo ragazzi in diretta timo di merda che ragazzi timo fa un male della cacca guardate 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 ma infatti timo me lo mangio mica mi ha ucciso guarda che male che fa timo ma porca trota ma perchè i minion mi fanno passare ma perchè ci hanno tutti con me ma akimbo perchè vai a cercare le kill che siamo ancora qua ma dai ma 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 non rischiamo ragazzi chiamo bene akimbo per favore dai eh dai sei zitta vieni qua ti trovo la vita pirletta ragazzi quest'oggi commentate i video di akimbo li scrivete se è un pirla come al solito e porca cotoletta a nabazzo e akimbo va a 3 kill grazie a look io ho 3 assist guarda caso io oramai sono diventato un assist un assist sono diventato un tassista sono diventato oh i minion ma cazzo c'era con me la torre oh se prendeva akimbo era morto sblocchiamo la terza cosa faceva la terza non mi ricordo più ah ok lancia la fiammatica ragazzi comunque questo pg ve lo consiglio per chi è appassionato di lol perchè è veramente stupendo è delle forte le forte di brut guardate quanto toglie guardate 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 e questa volta la kill la fa yuk questa volta per riconoscere le kill ragazzi basta guardare qua in alto a destra quando escono le faccine e la faccina della donna drago sono i mie sono mie io però ho 1100 io quasi quasi recallo recallo che sto rischiando troppo ebbè poi mi trasformo in drago le puppe mi danno fastidio nabbazzo uccide misfortune compriamo le scarpette e poi ragazzi non guardate la mia build ma perchè io le build me le invento come al solito non capisco un cazzo di sto gioco io guardate cosa mi faccio adesso una bella infinity subito subito allora questo pg in poche parole scusate ragazzi premendo la prima la prima spell la prima skill aumenta il danno premendo invece la seconda guardate gli gira una cosa intorno e aumenta lo speed tutto vedete va molto più veloce la terza lancia la palla di fuoco il quarto la quarta arma ci trasformiamo in drago che al sesto livello lo sblocco vi faccio vedere mi ecco guardate a kimbo ma come ma se l'ho colpito adesso io ma ragazzi a kimbo è morto l'ho colpito io ma ancora assist ma ma nu riguardatela questa non va bene ragazzi a kimbo è morto l'ho colpito io la killa da kimbo no no va si mi ritiro ma io mi ritiro ma neanche l'assist mi ha dato quella è la bella cosa neanche l'assist mi ha dato e dai mano guardati il video e vedi che sono saltato da dosso porca trota vabbè vabbè comunque a kimbo sta facendo la bellezza di 5-3-1 è morto è morto già tre volte per cui non si può beccare per il momento il legendary guardate questo che mira che c'ha mamma mia mi metto pure a ballare guarda sono pure salito di livello ballando questa è stupenda aiuto ma come è scappato è scappato mano che vuole a meo sono morto pure io no no acceleriamo acceleriamo vedete ragazzi la seconda skill è fantastica soprattutto per scappare io le callo perché ma non tutti tu li stai ammazzando io solo ho 4 assist qua in alto come vi ricordo 1 kill 0 morti 4 assist 10 minion uccisi allora compriamo ragazzi questo aggeggio vi faccio vedere life steal la vampire expecter con questo aggeggio ogni minion che becchiamo ci becchiamo la vita io intanto sto raccontando un po' le dinamiche del gioco che poi ragazzi dovrebbe raccontare soul che è il più esperto io non so un cazzo di lol guardate a kimbo guardate a kimbo un'altra kill si fa a kimbo scateneto si si e poi qua in alto a destra ragazzi vedete 13 4 sono le le nostre uccisioni contro le nostre morti totali 13 kill mi ha fatto il mio pg si è rincodonito in mezzo ai minion grande quanto state facendo 7 4 1 a kimbo 4 0 soul attenzione a kimbo fa un'altra kill manco mi aspetta kimbo ragazzi adesso vedete quanti minion hanno ammazzato 12 come me ok c'ho la final adesso ora vi faccio vedere come mi trasformo in drago appena ne ho l'occasione in dado si viene avanti cretino questa volta devo rubare io la kill ragazzi mi raccomando ci siamo in boschetti guardate il drago pampe te e si fa la kill k kimbo ancora no fai schifo manu fai schifo gli ho fatto la final l'ho spostato di 400 km l'ho buttato oltre la torre e no 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 se dico no è no se dico no è no c'ha una mira su pg ragazzi ah la mia final ragazzi la quarta mossa non si ricarica col cooldown ma beccando i minion vedete questa barra arancione sotto 30 su 100 quando arrivo a 100 ho disponibile la final guardate che sta aumentando basta colpire i minion oppure sale piano piano col tempo io c'ho paura di timo io le attacco ah gli ho messo l'ignite e l'ho uccisa ma come a kimbo ragazzi l'ho colpita gli ho messo l'ignite gli ho messo tutto io ma come a kimbo ma volete vedere che io sto laggando ragazzi nel gioco allora secondo me li becco invece non li becco può darsi no ragazzi riguardatevi il mio video soul riguardati il mio video per favore secondo me io sto laggando allora per me se becco le persone invece in realtà no mi arriva tutto in ritardo ma io mi accendo una caramella che mi sto incazzando ma guardate a kimbo che non mi aspetta guardatelo ah oh ma che c'è in mid oh già hanno cominciato tutti insieme manu da dietro manu no manu sca ah ma sono io ma che cazzo faccio qua è fuori uno e questo l'ho fatto io però sto giro è fuori uno è fuori uno ma come me li state fottendo tutti no ragazzi no no a me mi viene da piangere con le morroidi no ma stiamo scherzando me li stanno fottendo tutti tutti a quest'ora ero 10-0 come minimo a kimbo 12-5-3 buono no nabba nabba farlo venire fatti seguire ancora me l'han fottuto dove è andato l'altro ma co ma cazzo l'ho colpito io adesso ma porca troi no ragazzi ma mica dite che c'ho 10 assist c'ho 10 assist ma io mi sto incazzando ma porca io sono convinto che se gioco da solo senza nessuno mi danno gli assist lo stesso anch'io anch'io ce l'ho e vai solo a kimbo si è mancato la vita infatti è morto il pirla oh ha fatto una kill porca loggia ma come l'ho colpito io adesso no ragazzi l'ho colpito no mi sto incazzando mi sto incazzando riguardatevi il video ragazzi no ma non torno ma non torno ma che vaffanculo non ci gioco con te c'ho 3 0 13 13 assist ecco ho fallato solo ma muoio eh a kimbo aspettarmi aspetta natale adesso muore ci godo guarda mi metto a ridere in cinese ecco ma mi tocca a ridere in giapponese invece e vai ho fatto una kill e che kaiser vabbè si è preso l'assist al suo giro lui ma solo quando sta facendo 12 0 6 sol ragazzi solo scatenato oh la torret ce l'ha con me porca loggia adesso la butto giù anch'io una torretta vai hai fatto il drago oh timo 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 ce la farò a farlo non sa di no me lo sono mangiato ragazzi guardate sono drago vai ragazzi quasi 150 per tutti eh grande soul vai 150 ah mi avete chiesto cosa sono quei numeri gialli che escono quando uccidiamo i minion ragazzi sono i soldi vedete più 25 g sono i soldi per poi acquistare al negozietto io vabbè io avanzi potrei anche decollare e andami a prendere qualche oggetto anzi mi sa che mi riesco a fare tutto all'infinity infatti mi sa che le callo ah no c'era Kimbo con me e questo mi fotte le kill allora non le callo buttiamo giù questa e poi le callo dai oh c'è Timbo un chieno invisibile no guardate guardate vengono a rompere da noi guardate e a suo giro gliela fotte il yucca da Kimbo ah ah e a sto giro ma chi venite qui stiamo buttando giù la torretta ragazzi anzi mi date una mano qua per favore qui eh ma ma non me l'avevo tancata io la buttavamo giù cazzo una mano o no io devo recallare c'ho 2500 da spendere ma ragazzi ma ragazzi non è che li stiamo sfondando troppo poverini come nei 4 al centro andiamo 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 c'era con me la torretta venite qua che vi do la vita ragazzi venite qua manù vai ok una kill l'ho fatta però sto morendo c'è timo c'è timo c'è timo no sono morto sono morto sono morto guardate come una mia vita sono rimasto non ci credo dove sei? grande grande oh stanno arrivando stanno arrivando oh di quanto mi ricarichi? bella grazie ma io volendo posso anche recallare vabbè io recallo no sto recallando ma non c'ho 3000 e 2 da spendere allora l'infinity poi ci facciamo subito subito la blood sister e no non mi bastano porca loggia currem 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 cur cur voglio ah ma siete sotto? allora vengo sotto 17-1-8 a soul e 16-8-7 a kimbo io 7-0-13 si sono arresi si sono arresi si sono basta bene ragazzi altro video di lol questa è una fantastica vittoria con la loro arresica ho fatto 7-0 però ragazzi neanche una morte complimenti a soul per i leggendari da a luke a kimbo a istor nabazzo soul save shame wave ma è tutto ragazzi ricordatevi per chi non ha ancora il gioco di iscrivervi a lol che è gratuito un gioco free to play con il link in descrizione datolo anche ai vostri amici il link in descrizione iscrivetevi cercate di salire con i livelli così mi fate un favore sono sincero ve lo dico mi fate acquistare pg e skin in modo che le posso mostrare durante il gioco non lo fate a rakim no scherzo da luke e tutti loro tutto ciao a tutti ragazzi un abbraccio e spero vi sia piaciuto il video pollice in su come al solitico